Siamo il numero uno, Street Parade 2012, ciao! Vi state divertendo? Molto! Tantissimo! Chi è il DJ? È la prima volta che vai su un carro? È la prima volta che vai su un carro? Sì, è la prima volta. Com'è l'esperienza? Positiva! Beh, vi state divertendo? È abbastanza, sì! Immaggurale,ทำ hormone! Perché tu sai, sai, sai? Si tu sai, sai? Si qui in questo barri non rimane bene 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 bene... Che qui in questo barri non rimane bene bene... il che ti mette la macchina todas le mani a ti e a tua hermana a te de te 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 ha smesso di piovere la gente è uscita nonostante la giornata da lupi borgotaro piena questo è il carro più casinista di tutti è il carro street parade la gente è uscita la gente è uscita nonostante la giornata da lupi la gente è uscita la gente è uscita la gente è uscita